Nicola e Mirjana parlano da soli in giardino, Nicola cerca di capire se Mirjana gli dà il consenso per corteggiarla, ma dopo moltissimi giri di parole Mirjani dice che non cambia niente meglio restare così. Lei ha troppe responsabilità e inizia ad innervosirle questa situazione. Nicola come un bambino che elemosina il giocattolo dalla mamma, gli risponde che lui vorrebbe di più da lei. Dai proviamoci che te ne importa, a me tu piaci, mi fai stare bene, ma nulla convince Mirjana che ci vede lungo. Vedremo che anche questa coppia sboccerà oppure appasserà in quanto la differenza di età c'è, e Mirjana è molto più matura di Nicola che a suo confronto sembra molto inesperto e volubile. Canale YouTube Fabio Pecce